Bella a tutti ragazzule e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nel secondo episodio con Balotelli, la rinascita di Balotelli Signori, io prima di partire il video vi ringrazio per essere passati qui sul canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suoi genitori e per il supporto che date al canale e per tutto quanto Signori, siamo nel secondo episodio, io ho fatto gli allenamenti nella pausa, infatti ho preso finalmente qualche voto decente Infatti la valutazione di Vincenzino Montella è risalita Andiamo avanti signori, che dovrebbe iniziare il campionato se non sbaglio, sì Io non so neanche in che mese siamo, mi manca qualche piccola informazione tecnico-tattico, però non è un problema, non ci facciamo a casa queste cose Siamo a luglio, ok, il campionato turco inizia a luglio, porca miseria che inizia l'aprile questo campionato Va bene, noi siamo tranquilli, siamo sereni, andiamoci a giocare i momenti clou con Ballotelli Signori, ci facciamo queste stagioni così veloci, veloci, rapidi e in dolore Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare Io sto registrando in rapida successione rispetto al video che avete visto al primo episodio Quindi non ho letto i commenti, non so se mi avete suggerito Non so come avete reagito più che altro, ma siamo carichi a pallettoni Allora, noi giochiamo solo con Ballotelli Quindi, concentrati su quello che ci capita di fare con Ballotelli A terzo minuto, contropiede per la Dana La Dana, allora, si chiama Dana sta cazzo la squadra A Dana, ok Dai, 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 guarda, guarda che si fa vedere Ballotelli Me la devi da però Ballotelli si fa vedere, largo sulla faccia Attenzione, ballo, il ballo, il ballo, il ballo, il ballo, il ballo Si invola, il ballo si invola sulla faccia Il ballo si invola sulla faccia Attenzione, attenzione, ballotelli, ballotelli, ballotelli Vuole fare tutto da solo, come al solito, Ballotelli, però vedi il compagno La palla arriva lì, il tiro Ottimo passaggio, va bene, dai, dai Siamo partiti bene, siamo partiti belli Ballotelli Ancora, contropiede per la Dana Contropiede per la Dana Guardami, bellissimo, bello, bello, bello Perché sempre sulla faccia però Ballotelli, 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 ballotelli Ballotelli, è in aria, ballotelli, ballotelli, ballotelli Ma che cazzo non la fai, ballote Ma Mario, che cazzo non la fai L'hai poggiata lì praticamente, mannaggia Allarghiamoci, allarghiamoci, allarghiamoci Allarghiamoci, guardami, 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 guardami Guardami, 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 sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, bravissimo Bella signori, non la possiamo sbagliare signori Signori, il ballo, il ballo, il ballo, il ballo, il gol della merda Dagli così, eh dai Ah Dana in vantaggio Ballotelli, uomo assist Va bene così Ballotelli uomo assist Ci piace Rigore Signori cosa ho detto I rigori si tirano centrali Stiamo calmi Stiamo calmi signori Attenzione Ricore Dritto per dritto Ci sono rimasti malissimi Il ritiro centrale Perché ho detto Il centrale non sbaglia mai Il centrale non sbaglia mai Non posso sbagliarne due su due Eccolo lì Super Mario Ballotelli Non si sa che cazzo lo dovete fare Va verso la fascia Una mega capriola A posto Si è rotta la schiena signore Si è rotta Chi è il rossiccio lì Che cazzo lo è quello lì Non si sa 2 a 0 al 46 Bello così Bello così Dai dove cazzo lo la siamo Dove siamo in difesa Che cazzo lo ci facciamo in difesa Ma sto dall'altra parte del campo Ma che Boh Non lo so Niente Giustamente Ho tirato il rigore da quel lato E sono rimasto da quel lato Perfetto Va bene 57esimo Ancora noi Il nostro buon minno con i capelli rossi Ci cerca Attenzione Bellissimo 1-2 Non ci ho capito nulla Però va bene Attenzione Contro la piede Ancora averla dana In completo Possesso Della partita Del campo De tutto Ballotelli Ballotelli Può andare per la doppietta personale Ballotelli 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 Portiere e poi palo Cioè Non si può sentire Non andare in fuorigioco Ballot Ballot non andare in fuorigioco Ballot non andare in fuorigioco Bravissimo Ballotelli che tiene la posizione Si è nascosto un po' Con i difensori Attenzione Attenzione Ballotelli 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 Che vede il compagno in accelerazione Gli dà una palla bruttissima Bruttissima Stavala Mannaggia In serie 76esimo Daiegos Daiegos Ancora noi in contropiede Totale possesso della partita Mi piace questa cosa Ballotelli che col movimento Lo manda fuori Il difensore centrale Ballotelli 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 Questa volta non ci pensa due volte Buca il portiere Super Mario Ballotelli Con l'esultanza da checca Però va bene Non ci interessa Grande Mario La rinascita di Mario E finisce così 3 a 0 3 a 1 Pedrinho L'aveva accorciata Ma doppietta di Ballotelli Signori Bello così Bello così Ottimo l'inizio di questo campionato Mi piace Mi piace tanto Dai 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 andiamoci a giocare La seconda partita Dai abbiamo preso 10 Tanta roba Cioè Fingentino Montella Sarà contentissimo E noi lo siamo ancora di più Punti personalità Livello 2 Va bene Migliori in campo Bello così Più 15 punti dal titolo Della valutazione di Montella Ci piace signori Ci piace Sta andando bene Con questa situazione Sta andando bene Alleniamoci Ci possiamo allenarsi Carica sessione precedente Simona tutto Abbiamo fatto gli esercizi Pidiamo due punti E Montella ci mette nella formazione titolare Anche alla prossima partita Va bene Va bene signori Andiamo avanti Andiamo avanti Per la seconda partita di campionato Dai così Doppietta di Balotelli Una partita a cannone Mi piace questa cosa Mi piace questa cosa Seconda partita di campionato Dai così Dai così Dai così Gioca partita Per forza Giochiamo sta partita Cioè Sempre con Balotelli Unica punta Siamo in 77 A 31 anni L'obiettivo è Tornare in Serie A E tornare a giocarci Una competizione europea Tornare in nazionale La vedo difficile La vedo difficile Perché Secondo me ormai Siamo fuori Da quel giro Siamo anche grandi di età Siamo fuori da quel giro Però Secondo me In Italia In una squadrezza Con la quale poterci giocare Con la Champions Secondo me Ci possiamo tornare Ce la possiamo giocare Attenzione Subito No In contropiede 0-0 Al ventesimo La Danna Sport La chiameremo così Signori La Danna Sport Perché non so il nome completo E non voglio babucchiarmi Attenzione Ancora Balotelli 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 Si allarga forse troppo Balotelli Balotelli Entra in area Balotelli 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 Si ferma Balotelli Vedi il compagno A rimorchio 1-0 Assist Di Super Mario Balotelli 1-0 Signori Bello così Assist E l'assist L'abbiamo portato a casa Attenzione Ancora Contropiede Della Danna Sport A Danna Sport Attenzione Balotelli Perfetto Embucato dal compagno Al limite dell'aria Balotelli Entra in area Entra in area Vedi il piazzamento Del portiere C'è il 2-0 2-0 Di Super Mario Di Super Mario Balotelli Balotelli Bello così Grande Marione Grande Marione Grande Marione E siamo a gol E siamo a gol E siamo 2-0 Ancora Contropiede Attenzione Sulla faccia sinistra La Danna Sport In questo momento Abbiamo distrutto un portiere Finita signori Veloce Rapido In dolore Un gol di Balotelli Al 44 E doppietta Di Bella 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 Rabi Lì Guardatelo come sorride Balotelli Bella così Dai Dai Siamo partiti bene Siamo partiti a cannone 3 gol In due partite Dai Dai Non mi dispiace La Nesce dei Balotelli Va proprio bene Contro il transport Tanta roba E prendiamo 10 Anche oggi Cacchio Cacchio Ci siamo portati Un altro bellissimo 10 In campo E a casa A casa Montello è contento Siamo stati migliori in campo No Non ci hanno dato il trofeino Però va bene Chi se ne frega Va bene così Va bene così Signori Seconda partita di campionato E stiamo partiti a bomba Allora Andiamo a fare gli allenamenti Perché secondo me Dobbiamo fare gli allenamenti Infatti Gli allenamenti dobbiamo farli Carica sessione precedente Simula tutto E andiamo avanti così E andiamo avanti così Andiamo avanti così Va bene signori Detto questo Io per questo video Mi fermo anche qui Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per i prossimi video Detto questo Grazie Vi aspetto Alla prossima Bella raga Ciao Ciao